Carissimi, siamo sul Ferry Bot che ci porta al Lido di Venezia, dove anche quest'anno saremo presenti alla mostra internazionale d'arte cinematografica, molto più semplicemente la mostra del cinema di Venezia. State con noi e seguiteci, scoprirete le cose che questa splendida mostra porta con sé. Buongiorno a tutti, siamo per arrivare alla mostra internazionale di arte cinematografica, anno 2019. Ieri è arrivato Brad Pitt, speriamo di vederne almeno l'ombra, ed ecco intanto a voi Venezia. Ciao! Restate con noi e seguiteci su Facebook e su Instagram.